Ciao ragazzi! Da quanto tempo, eh sì, è passato più di un mese dall'ultimo video che ho caricato sul canale. Oggi volevo perciò brevemente dirvi il perché di questa mia assenza nelle scorse settimane e ricominciare la mia regolare attività qui su YouTube. Ho dovuto affrontare ben 2 ricoveri in ospedale con intervento, non starò qui a tormentarvi con inutili dettagli, ora sono tornato in forze e sono nuovamente operativo. Ma soprattutto, e immagino lo avrete già notato, mi sono sposato. Banalmente tra una cosa ed un'altra non ho proprio avuto il tempo materiale per dedicarmi ai classici focus e video di approfondimento che sono solito pubblicare su base settimanale qui sul canale. Mi scuso per non avervi tenuto informati. Al contrario, vista la semplicità di registrazione ed upload, ho continuato ogni martedì a pubblicare regolarmente sul canale secondario i video gameplay. Ah, se ancora non lo sapeste, ho creato questo canale aggiuntivo proprio per evitare di pubblicare qui video che ad alcuni di voi potrebbero non interessare, e poi per cercare di non intasare il canale principale. Se ancora non foste iscritti al secondario o non ne conoscesse proprio l'esistenza, magari dateci un'occhiata, trovate il link qui in alto e in descrizione e fatemi sapere che ne pensate. Per quanto riguarda questo spazio, già dai prossimi giorni tornerò a pubblicare le varie guide, tutorial ed i solidi contenuti che apprezzate e che spero possano tornarvi utili. Non ho ancora pianificato tutto nei minimi dettagli, ma penso che il primo video in arrivo farà parte della serie pillole, seguito da almeno un nuovo tutorial, poi le mie considerazioni sul prossimo gioco per Switch che è in uscita proprio in questi giorni, ed ovviamente almeno una nuova puntata su Ropai, il robottino che sto costruendo. Non mancheranno sorprese e qualche nuovo esperimento. Per quanto riguarda il blog, invece, probabilmente lo avrete notato, purtroppo sta passando in secondo piano. Ed è una cosa che mi dispiace moltissimo visto che tutto è iniziato da lì e YouTube e gli altri canali social dovevano soltanto fare da supporto. Il tempo a mia disposizione per incastrare tutto sta diminuendo vertiginosamente e non riesco più a scrivere articoli di approfondimento con regolarità. Quindi il blog rimarrà di supporto ai vari video tutorial che pubblico su YouTube e poi come base di raccordo tra tutte le cose. che seguo. Infine, volevo sapere da voi se questo tipo di aggiornamenti video, o chiamateli un po' come volete, vi possono interessare e se, quindi, per voi possa aver senso che io ne pubblichi di tanto in tanto così da avere anche uno scambio più diretto. Direi che è tutto per questo brevissimo update, ci sentiamo presto con le novità dal canale, ciao! 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 Ciao!